Musica Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica Siamo alla terza domenica del tempo ordinario E oggi ricordiamo, festeggiamo, celebriamo la Domenica della Parola Una festa che Papa Francesco ha voluto già pensate due anni fa, nel 2019 Per ricordare quanto è importante la parola di Dio Allora oggi la prendiamo in mano, la sua parola Apriamo il nostro cuore e chiediamo che il Signore ci parli Marco 1, 14, 20 Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio E diceva Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino Convertitevi e credete nel Vangelo Passando lungo il mare di Galilea Vide Simone e Andrea, fratello di Simone Mentre gettavano le reti in mare Erano infatti pescatori Gesù disse loro Venite dietro a me Vi farò diventare pescatori di uomini E subito lasciarono le reti e lo seguirono Andando un poco oltre Vide Giacomo, figlio di Zebedeo E Giovanni, suo fratello Mentre anche essi nella barca riparavano le reti E subito li chiamò Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo Nella barca con i garzoni E andarono dietro a lui Amen Ecco cari amici che oggi Siamo al primo capitolo del Vangelo di Marco E vediamo Gesù che inizia a proclamare il Vangelo Eu angelium La buona notizia Eu angelium è la buona novella Che Dio è con noi Che Dio è al nostro fianco Che Dio non si è dimenticato di noi Che Dio è alla nostra destra Con la sua mano, con un braccio potente Ecco perché Gesù è venuto Per ricordarci Che Dio è amore Dio è in mezzo a noi E noi spesso ce lo dimentichiamo Spesso in tanti eventi della nostra vita Personale, comunitaria, sociale Dimentichiamo che Dio è con noi Ecco che oggi proprio il Vangelo ci dice Attraverso le parole di Gesù Convertitevi e credete Più volte abbiamo visto che cosa significa Conversione da parte di Gesù E conversione nel Vangelo Metanoia Cambiamento di mentalità Permettiamo allo Spirito Santo Che entri dentro di noi E cambi i nostri pensieri negativi E cambi le nostre abitudini I nostri atteggiamenti Perché il Vangelo ci spinge Ad essere pieni di speranza Il Vangelo ci spinge A ricevere, ad accogliere La buona notizia di Gesù E Gesù quindi immediatamente Annuncia A fratelli A persone che erano Sul mare di Galileo Il mare di Tiberia Di questo lago E gli dice Seguitemi E subito, immediatamente Alla chiamata C'è anche un progetto Vi farò pescatori di uomini E' bellissimo Gesù Soprattutto nel Vangelo secondo Marco E' un uomo concreto E' un uomo che va Direttamente All'obiettivo C'è una chiamata E c'è anche un progetto Non ha detto soltanto A Simone e Andrea Venite dietro a me Seguitemi Ha detto Seguitemi Vi farò Diventare Pescatori Di uomini Fratello e sorella Carissima Il Signore Rinnova oggi La sua chiamata L'abbiamo visto anche Qualche giorno fa La chiamata di Gesù Ai dodici Rinnova la chiamata Verso di te Verso di me Ad essere cristiani Ad essere suoi discepoli In questa chiamata Non c'è solo un Seguimi Ma c'è un progetto Tu sei E sarai Un pescatore Che pesca Per il Vangelo Ovvero un Annunciatore Carissimi Siamo chiamati Tutti quanti Ad annunciare Con gioia Con entusiasmo Che Cristo è vivo Che Cristo è risorto E nella chiamata A seguirlo Non ci sono Quei precetti Che Seguivano Al tempo di Gesù I giudei I ebrei No Più di 600 precetti Fai questo Fai quello Non fare troppo Non andare Devi pregare Devi lavarti le mani No Però attenzione Perché spesso noi Ritorniamo in quella fase Sono cristiano Devo fare le mie pregherine Devo andare in chiesa La domenica Devo ogni tanto Confessarmi E Qualche preghiera Speciale Fratele e sorelle Dimentichiamoci Questa cosa Essere cristiani Significa Seguire Cristo Chiaramente Nella chiesa Ma seguirlo Autenticamente Seguirlo Per chiamata E quindi Rispondendo E seguirlo Anche con Quell'obiettivo Io sono cristiano Sono stato battezzato Ho ricevuto Lo Spirito Santo Per stare Con Gesù Quotidianamente Ma soprattutto Per annunciare Il Vangelo Questa è la chiamata Il Concilio Vaticano II Ce lo ha detto Più di 50 anni fa Ci ha detto La Chiesa vive Per evangelizzare La Chiesa deve Evangelizzare Deve portare Il Vangelo E da quando Gesù ha chiamato I suoi discepoli Non ha fatto altro Che dire Venite dietro a me Perché voi Sarete i miei testimoni Voi pescherete Li uomini Quindi Lasciamo perdere Tante Pensieri Io sono cristiano Quindi Devo fare Solo Questo Quello E quello Basta Chi predica Il prete I frati Le suore La Chiesa Il Papa Tanto dopo Critichiamo sempre Sei tu Che devi annunciare Il Vangelo Questa è la Chiesa È la Chiesa Di Cristo In cui ogni Battezzato Annuncia Che Cristo È risorto Che Cristo È vivo Amen Quindi Rispolveriamo Oggi Questa chiamata Ad annunciare Cristo E guardiamo Quello che ci dice Oggi Il Salmo Il Salmo Bellissimo Che Ascoltate Anche Nella nostra Rubrica Cantiamo I Salmi Di Shouto Koenonia Il Salmo Dice così Fammi conoscere Signore Le Tue vie Insegnami I Tuoi Sentieri Guidami Nella Tua Fedeltà E istruiscimi Perché Sei tu Il Dio Della mia Salvezza Io Spero In te Tutto Il giorno Anche noi Signore In questo giorno Veniamo A te Per convertirci E per accogliere Il Tuo Vangelo Che entra Nei nostri Cuori Nelle nostre Case E noi ti chiediamo Signore Facci conoscere Le Tue Vie Insegnaci I Tuoi Sentieri Guidaci Nella Tua Fedeltà Signore Guidaci Come cristiani Ad annunciare Anche oggi Il Tuo Vangelo Annunciare Che sei Risorto Noi Proclamiamo Che Tu Sei il Dio Della nostra Salvezza Proclamiamo Che Tu Sei il Dio Che ha Cura di Noi Che guarda I nostri Passi Che ci Conduce Sempre Su Pascoli Erbosi E donaci O Signore Di sperare Sempre in Te E di annunciare Che solo in Te C'è la salvezza La nostra gioia La nostra forza Rendici Autentici Testimoni Tuoi Signore Della Tua Parola Vivente A Te Signore L'onore E la gloria Per tutti i secoli Dei secoli Amen Carissimi amici Andiamo E annunciamo A tutto il mondo Che Cristo Risorto Vive Ed è in mezzo A noi Grazie Che mi avete accolto Un caro saluto E un abbraccio Della coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella Ciao Fammi conoscere Signore Le Tue vie Fammi conoscere Signore Le Tue vie Fammi conoscere Signore Le Tue vie Insegnami Insegnami I Tuoi sentieri Guidami Nella Tua fedeltà E istruiscimi Perché sei Tu Il Dio Della mia salvezza Fammi conoscere Signore Le Tue vie Ricordati Signore Della Tua misericordia E del Tua E del Tua Amore E del Tua